Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Lord Byron a Livorno di Patrizia Poli George Gordon Byron, nato nel 1788 e morto nel 1824, da Pisa dove risiedeva sui Lungarni, venne a Montenero nel 1822. Lo storico Pietro Vigo, nella sua guida di Montenero, ne dà ampio resoconto. Al prezzo di cento francesconi al mese, Byron prese in affitto Villa Dupuis, dal banchiere Francesco Dupuis, con stalle, rimesse, giardini, cisterne e pozzi d'acqua pulita. A Montenero Byron scrisse parte del suo Child Harold e l'iscrizione per la tomba della figlia Allegra. Un gruppo di americani ancorati al porto di Livorno lo invitò a bordo e gli tributò onori da grande celebrità. Pietro Vigo riporta una contesa scoppiata il 28 giugno verso le 17 fra le persone al servizio di Byron e quelle al servizio della contessa Guiccioli. Furono coinvolti anche i Gamba, si impugnarono coltelli e pistole, Pietro Gamba rimase contuso. Questa rissa diede occasione alla polizia toscana di sfrattare gli invisi conti Gamba col pretesto di clamori e intemperanze che disturbavano il quieto villaggio di Montenero. A tale proposito, Byron scrisse al governatore la seguente lettera, che Vigo dichiara di aver trovato solo nella traduzione italiana. I miei amici Conte Gamba e famiglia hanno ricevuto l'ordine di lasciare la Toscana in termine di quattro giorni, come pure il mio corriere svizzero di nascita. Non farò alcuna osservazione sopra quest'ordine, almeno per ora. Io lascerò in loro compagnia questo territorio, non essendo luogo di dimora adatto per me, quel paese che ricusa un rifugio agli sventurati e un asilo ai miei amici. Ma siccome io ho qui un capitale considerabile immobilia ed altri articoli che richiedono qualche tempo per disporre l'allontanamento, sono a pregarla di una dilazione di qualche giorno in favore dei miei amici, come pure del mio corriere, il quale mi accompagnerà se ciò vi è in permesso, e io suppongo che un giorno o due di più sarà cosa di piccolissima conseguenza. Siccome io accompagnerò i miei amici qualunque volte essi partano, chiedo il permesso di pregarla ad onorarmi d'una sua risposta. Ma il poeta inglese non ottenne ciò che chiedeva, come non l'ebbe vinta nella disputa dell'acqua. Byron era molto difficile in fatto d'acqua, la digeriva solo se purissima e cristallina, ma la siccità portò all'esaurimento dei pozzi. Byron allora si rifiutò di pagare la pigione e fece casa a Dupuy, nel tribunale di Livorno. Perse e dovette pagare le rate arretrate, gli interessi e le spese giudiziarie. Mentre era ancora a Montenero, ricevette una lettera in versi da Goethe, che si fece tradurre da Enrico Maier, giovane scrittore di padre tedesco. Rispose che sarebbe partito presto alla volta della Grecia, dove si combatteva per l'indipendenza. Partì infatti dal porto di Livorno, sulla Ercole, e raggiunse Missolungi, dove morì nel 24, ma non in battaglia, bensì di meningite. Nel 1900 gli fu intitolata una via di Montenero.